Ciao raga, buon martedì a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo uno di tre video un po' più particolari che appunto vi sparerò una tantum perché per chi magari non avesse seguito, non ci sarebbe niente di male, io questo fine settimana appena concluso ho partecipato a una Streamer Cup, una Streamer Cup 3 per la precisione, un torneo di 16 partecipanti dove hanno partecipato un sacco di content creators di matrice prettamente americana ma anche big come Edoardo Cugna, Poké Alex, Fevzi Otskan, Cybertron, Josef Ugarte, Butterroom, insomma un bel torneo al quale è andata bene, è andata bene, ho concluso, non ho vinto ma ho concluso fra le prime posizioni quindi questo mi inorgoglisce ma per l'appunto ci sono state delle Versus 3 particolarmente interessanti specialmente contro Fevzi Otskan, Edoardo Cugna e Poké Alex che vi riproporrò nei prossimi giorni sul canale oggi ci andiamo a vedere come dà titolo quella contro Fevzi Otskan ma vi volevo ovviamente un pochino spiegare il perché e il contesto di questa Best of 3. Detto questo cari ragazzi vi aggiungo anche oltre che non sarà commentata quindi avrete la Best of 3 secca senza il mio commentary come se la vedeste in diretta voglio provare questo nuovo format e se volete vedere questo team all'opera, team molto particolare ovviamente con Censi, stasera facciamo una live ore 18 molto particolare con il creatore di questo team Francesco Pero, ci abbiamo lavorato insieme ma è sicuramente molta più farina del suo sacco vi spiegheremo tutto stasera perché, per come, perché Censi non è un team meme quindi insomma se siete curiosi vi aspettiamo là ma adesso andiamo a vederci la Best of 3 prima però vi ricordo cari ragazzi è da pochi giorni aperto il secondo canale di ricaricamenti su YouTube io vi prego gentilmente di andare in descrizione o anche al primo commento dove pinno il link e andarci a lasciare un'iscrizione perché mi prendo 30 secondi ve lo voglio spiegare ho deciso di investire qualitativamente sempre più anche su questo, sul main canale YouTube e per farlo voglio riordinare bene i contenuti senza andare ad annacquare con gli avanzi della cena potrebbe sembrare, ossia i ricaricamenti delle live su quello viola che in realtà però a molti interessano però allora li voglio mettere su un secondo canale non c'è una duplicazione degli introiti, anzi è un qualcosa in più al quale stare dietro che per i primi tempi peraltro renderà molto molto meno, anzi zero perché sono demonetizzati quindi vi chiedo semplicemente di darmi gentilmente una mano con un'iscrizione anche a quel canale lasciate anche un mi piace e un commento a questo video nonché appunto magari iscrivetevi proprio a questo anche di canale perché siamo praticamente a 56.000 iscritti, chi l'avrebbe mai detto? io vi voglio tanto bene e godetevi lo spettacolo di una bellissima, bellissima, bellissima best of three contro un campionissimo come Fevzi Otskan acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti